E' una giornata bella, viviamola insieme, divertiamoci con un grande sorriso. Siamo in una famiglia stasera, quindi qui la dobbiamo veramente creare l'abita della famiglia, perché è questo che vogliamo noi, una famiglia. L'azienda è in gran parte fatta anche di tanti giovani, ci sono le persone di più esperienza, ma ci sono anche tantissimi giovani e di questo siamo veramente felici. Essere qui per me è un grandissimo orgoglio, posso solo che essere grato a questo gruppo, a questa famiglia e ad appartenere veramente a un gruppo formato da persone così speciali. La festa oggi per me è un momento emozionale di racconti del passato, è un'opportunità per apprezzare il presente e sentirsi parte di una famiglia e guardare al futuro remando tutti alla stessa direzione. La festa oggi per me è un grande sorriso. Le persone che lavorano qui con noi sono la cosa più importante e le vedi, le aiuti, cerchi di capirle. Questo è così semplice a spiegare a casa grande.